buongiorno a tutti oggi il video parte da qui perché è qui che io devo risolvere un problema ormai annoso siamo sempre tutti più connessi abbiamo 200 miliardi di dispositivi e questo è il risultato un simpatico groviglio di cavi e a sinistra chiaramente una multipla per consentirmi di attaccare tutto quanto ma è il momento di trovare una soluzione a questo problema niente di trascenditale faremo un bello scatolotto per nascondere tutti i cavi di ricarica e anche tutti i cavi di alimentazione siamo dunque saliti in laboratorio non prima di aver preso le misure del caso e con il nostro fido pannello di compensato di pioppo spessore un centimetro iniziamo a fare i tagli che comporranno lo scatolotto tagliati i primi tre componenti siccome lo spessore è di 10 mm e qui dovrò andare a piantare dei chiodini per assemblare la struttura me lo vado a segnare con la mia squadretta combinata la imposto su 10 mm e vado a tracciarmi una bella riga su ambe due i lati fatto questo prendiamo i famosissimi morsetti con l'angolo a 90 gradi e andiamo ad assemblare la struttura prendiamo dunque questo e andiamo temporaneamente a piazzarlo qui poi andiamo a prendere il secondo pannello e ne andiamo a mettere qua contro e assembliamo ora che li abbiamo messi un tanto al braccio andiamo a fare gli aggiustamenti di fino quindi torniamo a mollare il primo pannello e dopo esserci accorti di averlo messo nel lato sbagliato perché come potete vedere qui c'è un gradino che non ci deve essere lo andiamo a girare signori fare poi tutte le cose al primo colpo è insomma sarebbe troppo poco divertente e andiamo a fissarlo anche nella parte superiore ora non ci resta che ribaltare qua la situazione allentare questo pannello uno nulla di colla lo rimettiamo in posizione e lo inchiudiamo anche continuiamo con la nostra composizione quindi andiamo a piazzare qua sotto un altro bel morsettino prendiamo il secondo anzi il terzo componente e andiamo a piazzarlo qua in battuta procediamo dunque con il morsetto superiore una volta trovata la posizione corretta andiamo a ribaltare tutto smontiamo il pezzo che è andato in appoggio e andiamo ad incollarlo e anche qui chiaramente non possono mancare gli amici chiodini e i primi componenti li abbiamo assemblati adesso è giunto il momento di realizzare la parte che va attaccata al muro dove c'è sia il battiscopa che le prese di corrente e quindi andremo a realizzare una parete a zigzag che si poteva fare con un bel pezzo un pochino più spesso e poi andare a fresare in prossimità del punto in cui ci sarebbe stato il battiscopa e le scatole della corrente ma siccome non ne ho voglia mi sono ricavato quattro listellini che adesso andrò ad alternare in modo da fare una sorta di serpente in questo modo evito di fare tutta la polvere della fresatrice e ottengo lo stesso risultato continuando a utilizzare sempre lo stesso materiale per ottenere questa alternanza tra i vari pezzi li andrò a sovrapporre di un centimetro mi sono messo qua dei pezzi di scotch in modo da evitare che la colla strabordi e venga assorbita dal legno perché dopo andremo a verniciarlo il non nulla di colla che ci contraddistingue con la spalmatina a seguito e vado a sovrapporre i due pezzi e chiaramente vado a immorsettare ora possiamo stare moderatamente tranquilli e andare a rimuovere i morsetti che hanno già fatto il loro lavoro fatto questo procediamo con gli altri pezzi allo stesso modo ed ecco la nostra composizione prendiamo dunque i nostri fili morsetti a 90 gradi e andiamo a fissare la parete ed eccola qua in tutto il suo splendore e diamo un attimo di tempo alla colla per tirare un minimo a questo punto è il momento di andarsi a ricavare l'ultimo lato qua di dietro non andrà a chiudere tutto il lato chiaramente se non avrei fatto un pannello unico ma lascerà una fessura di un centimetro e mezzo che consentirà l'ingresso dell'asta della piantana ottenuto il pannello lo appoggiamo sul banco da lavoro andiamo a prendere la struttura e ce l'andiamo ad appoggiare sopra ora mi metto a favore di camera ci armiamo di matita e andiamo a rilevare la dentellatura del lato appunto dentellato ed ecco quello che dobbiamo ottenere per farlo faremo tante passate al banco sega ora prima di procedere oltre come avete visto mi sono ricavato questi quattro stecchini che saranno parte della struttura di rinforzo di questo bel blocco anche perché ho intenzione di usarlo come piano di appoggio mentre sono sul divano quindi ora prendo questi bei legnetti e li vado a mettere ai quattro angoli all'interno solo con colla perché non voglio aumentare il numero di chiodi che si vede all'esterno e questo qua lo mettiamo sotto assemblo anche gli altri tre e appena la colla ha fatto presa proseguiamo mi sono ricavato uno stecco da andare a mettere qui e per rendere ancora più solida questa bella struttura mi sono ricavato anche questi due stecchi dove sono andato a realizzare due fori a tasca vado a fissarlo temporaneamente con dei morsetti e procediamo con la vite ripeto la cosa anche dall'altra parte prima di proseguire con la pannellatura superiore devo andare ad effettuare il taglio che consentirà dopo ai cavi di ricarica dei vari smartphone e compagnia bella di uscire per andare a caricare dispositivi che saranno appoggiati sul piano sopra per realizzare la fresata utilizzerò il solito rifilatore sul quale ho messo questa guida in modo da tenere la fresata sempre parallela al lato superiore tocca quindi occuparci dei pannelli di chiusura quello più grande rimarrà fisso lì bello chiuso senza nessuna lavorazione quello più piccolino come potete vedere ho già provveduto a immorsettarlo qua al banco e andremo a fare una fresata nello specifico questa fresata di circa 7 cm per uno spessore di 1 cm 1 cm più o meno e anche questa volta la faremo con il fido rifilatore possiamo procedere a fare un finto assemblaggio per darvi un'idea del lavoro finito quindi questo verrà qua in cima fissato per benino e questo qui verrà messo così questo è il foro dal quale passerà l'asta della piantana questo sportellino sarà apribile in modo da poter ispezionare all'interno quindi ora datemi ancora una mezz'oretta io procedo con fissare qua due belle cerniere fare due fori sulla base per far passare i fili della ciabatta e dei trasformatori che alimentano il movimento relax del divano do una bella pitturata a tutto e ci vediamo laddove siamo partiti per il lavoro completato ed eccoci qui dove tutto è cominciato e vi faccio vedere quello che è venuto fuori con anche due chicche che ho applicato ecco qua come si presenta al momento la stessa zona che avete visto prima qui sovrimpressione vi mostro com'era prima dell'inserimento di questo cubotto e ora come potete vedere ci sono già due dispositivi in carica ma cosa c'è di particolare? allora per prima cosa al suo interno sono andato ad applicare questo bellissimo sensore di fumo che state vedendo ora lo abbiamo applicato nella parte interna sotto al componente che rimane fisso in questo modo nel caso in cui ci dovesse essere un qualche problema qua sotto con i caricatori me ne dovrei accorgere per tempo perché fa un suono veramente assordante inoltre nella parte frontale sono andato ad attaccare questi organizer per cavi dei device in modo da ottenere ordinati tutti i fili dei miei device ora comunque andiamo a vedere nello specifico ecco qua come potete vedere qua resta tutto fermo adesso sposto tutti i dispositivi che sono attualmente in carica andiamo ad aprire la parte apribile per l'appunto e come potete vedere qui sotto c'è il solito groviglio di cavi che adesso comunque andrò a migliorare mettendo dei gancini su queste pareti e andando ad agganciare i rotoli di cavo e qua sotto come avete visto c'è il dispositivo di rilevamento del fumo sentite un po' direi che si sente abbastanza bene e questo è il lavoro finito non è certo un video rivoluzionario ma visto che dovevo farlo ci ho tenuto a condividere con voi questa realizzazione che a noi verrà molto comoda sia per quanto riguarda la percezione dell'ordine visto che comunque tutti i cavi stanno lì dentro adesso andremo a migliorare sia per quanto riguarda comunque la comodità di avere un pianetto di appoggio di fianco al divano ora io vi ringrazio se siete rimasti fino qui nel video trovate i link a quei dispositivi che ho attaccato qua sotto in descrizione vi invito a lasciare like, iscrivervi e come al solito ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao